E salve a tutti ragazzi, sono Dicoazze e questo è intro, sì vabbè, lo sapete già la sigla... beh, la siglerò Bye! Allora ragazzi, oggi, non voglio farmi uscire, però, è appena arrivato il pacco, e io so cosa c'è nel pacco, però voi non lo saprete Cioè, non lo sapete, ma dopo l'italiano, questo è il pacco, è enorme, cioè, questo è il mio braccio, anzi c'è un calcio Comunque è enorme, e l'ho appena preso, ancora non l'ho aperto, non so niente, se c'è, si mi ha dato un'altra cosa, speriamo che è quello giusto Allora ragazzi, so che in questo video la stabilizzazione non ci sarà perché sto tremando come non so chi A parte che sta un'ammarcatura là Cioè, non è un'ammarcatura, è un buco, cioè, stanno i topi secondo me Allora ragazzi, io direi di cominciare con l'unboxing e... a video Allora ragazzi, siamo qui con il pacco Allora, iniziamo, questo taglierino secondo me non va bene perché... Taglia Taglierino che taglia? Chi l'avrebbe mai detto? No, non sto fermo Non fotti col taglierino Allora, vai, un'aperta Allora, te l'avrebbe mai detto il taglierino, ragazzi Eh, la do È quello, è quello, è quello, è quello Però è un po' ancora diverso Allora ragazzi Allora, vai, vai, vai No Non si riesce a gioco Ma che cazzo Stava questo In fondo è bastato Oh mio dio ragazzi E' troppo bello E' troppo C'è troppo Guarda Guarda che figo Allora ragazzi Questo qua L'ho preso per lo speciale Dei 100 iscritti Che ormai Stiamo ai 120 Però è la vita Allora ragazzi Questo è il mio primo skate Ehm Non so neanche se lo sopporto Allora ragazzi Sto con le ruote in blu chiaro Perché Cioè A parte che questo colore Mi piace Celeste Allora ragazzi Con questo skate Cosa farò Vorrei fare lo speciale Dei 100 iscritti Ormai 120 22 Con questo qua Vorrei fare una specie Di Di Q&A Però non so se Tutti voi No tutti Però la maggior parte Mi farà delle domande Perché 100 iscritti Si lo so È già una somma Però Si deve dire Se questi 100 iscritti Collaborano E si guardano Tutti i video Quindi ragazzi Se voi Non mi mettete Le domande Sotto a questo video Che poi Metterò Oppure su facebook In modo che Amplio Cioè Nel senso che Mettendo sia su youtube Che su facebook Dovrei ricevere più domande E quindi Speriamo Di 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 Allora Per prima cosa Vorrei Fare Questo speciale Poi voglio fare Il blog Sullo skate Poi farò Questo q&a Che sarà Lo speciale De 100 iscritti Cioè Sia il blog Che sarà Metterò Un post Su facebook Quindi Seguitevi Su facebook Lascio il link Del mio profilo Privato Facebook In descrizione E metterò Questo video Anche là Quindi O metterete Le domande Su youtube O metterete Le domande Su facebook Per me È indifferente Però L'importante È che non facciate Sempre le stesse domande Tipo Come ti chiamano I quanti anni hai I quanti anni hai Cioè Mettetele Però Uno Non è che arrivano Dieci domande Ampliate Il discorso Se c'erano troppe volte Allora Allora Vanno 60 minuti Allora Si Per questo video è tutto Vi ricordo di lasciare un like Scrivermi Nei commenti Dei domande Per Per il Perché Mi provo Iscrivermi Per il Pini E Lascio il link In descrizione Del mio profilo privato Di facebook Voi Mi mandate la richiesta Non so Fate qualcosa E sotto al video Che metterò pure Su facebook C'è il link Metterò Quindi Perché Sembra che Non c'è la connessione 100 mega C'è la connessione Si Fate le mie domande O su youtube O su facebook E Noi Ci vediamo E un prossimo video Dallo skate E da dico Ciao Taggi di da lui Non vuole delle camera Qualche giorno C'era questa è la condizione Di una stanza Per non parlare sul letto Che stanno le bustine Trasparenti Non si capisce un cazzo Taglierino Ciao